Salve a tutti, sono Lorenzo Colloretta e vi do il benvenuto a questo videocorso di Teacher in a Box che è dedicato ad alcuni consigli di sopravvivenza, direi, per imparare a convivere e a utilizzare al meglio Lightroom. Io utilizzo moltissimo Adobe Lightroom che ha cambiato veramente il modo di fare fotografia digitale e insegno moltissimo Lightroom. So anche che sono molti i problemi comuni dell'utente che si avvicina a Lightroom per la prima volta, magari senza aver letto bene il manuale, oppure i professionisti che utilizzano Lightroom per un po' di tempo e poi incorrono sempre nei classici problemi di organizzazione della propria libreria, di correggere indicazioni di file mancanti, eccetera. Quindi abbiamo realizzato questo specifico corso per tutti coloro che si trovano appunto in imbarazzo in situazioni del genere. Se anche voi avete la vostra libreria di Lightroom che pullula di elementi sconosciuti, file introvabili, parole chiave messe in maniera più o meno dubbia, oppure avete problemi a capire come funziona l'importazione, la gestione delle cartelle, non avete mai fatto ordine nei vostri file, questo è il corso che fa per voi. Non parleremo naturalmente in profondità delle singole opzioni e delle singole funzionalità di Lightroom perché l'abbiamo fatto in tanti altri corsi di teacher in a box. Quindi se non l'avete ancora fatto vi suggerisco di guardare la libreria dedicata a Lightroom che è disponibile nel lezionario online. Attualmente si tratta di diversi corsi, Lightroom CC subito in pista che è anche gratis, una panoramica molto completa, rapida ma completa di tutto quello che server cominciare con Lightroom. Lightroom CC tutti gli strumenti per gestire al meglio le fotografie che si concentra in particolare sull'utilizzo della parte libreria di Lightroom, quindi organizzare, scaricare, archiviare e gestire in maniera performante il vostro archivio. E poi Lightroom CC Camera Raw, tecnica e creatività per lo sviluppo delle fotografie, che è concentrato sulla parte di sviluppo e post-produzione dei file e quindi è ottimo anche per chi non usa Lightroom ma utilizza Camera Raw e Photoshop. È stato poi ultimamente rilasciato anche il corso di Lightroom relativo alle novità aggiornato alla versione 2015.8, utile per capire cosa è cambiato in questo periodo e cosa vale la pena di cominciare a utilizzare. Quindi utilizzate questi titoli come punto di partenza per avere tutte le informazioni sull'uso di Lightroom e se vedete che qualcosa va storto o non avete chiaro i concetti fondamentali di archiviazione, ordine, gestione dei file, fate riferimento a questo corso perché sono sicuro che troverete le risposte giuste, abbiamo più tempo per approfondire singoli semplici argomenti e vi garantisco che è un buon complemento agli altri corsi perché ci tengo che tutti utilizzino Lightroom al massimo delle potenzialità senza fare errori grossolani e traggano da questo software che è molto bello la massima soddisfazione. Quindi vi auguro una buona visione e iniziamo a vedere quali sono le regole principali per un corretto approccio a Lightroom.